Stamattina abbiamo avuto un incontro dove sono stati comunque affrontati due aspetti. Il primo è riguardo i fondi caregiver, cioè i fondi rivolti alle famiglie affetti da disabilità pediatriche gravissime e in più il reparto di terapia subintensiva pediatrica che è concluso, come si può vedere anche sulla pagina Facebook Progetto Noemi, ma che ad oggi è ancora chiuso. Noi siamo stati in regione affinché le promesse venissero onorate, perché sono comunque degli argomenti già affrontati, sia a maggio per quanto riguarda il caregiver, che erano state promesse risorse per 280 mila euro, e sia la terapia subintensiva. Nell'incontro purtroppo non era presente il governatore D'Alfonso, più Silvio Paolucci e il dottor Muraglia, quindi si è convenuti comunque affrontare le problematiche in oggetto. Entro il 23 ottobre, il primo di novembre, ci incontreremo affinché siano date delle soluzioni. Credo che non c'è più nulla da affrontare, ma è ormai arrivato il punto di dare concretamente la soluzione, cioè la copertura finanziaria del bando e l'apertura del reparto. Per il reparto che cosa manca? Perché non viene aperto? Su quanto riguarda il reparto ovviamente la struttura è pronta. Ora bisogna intervenire evidentemente sull'organico, sull'equip che prenderà parte. Comunque ci stanno lavorando, l'ASRI di Pescara dovrà intervenire facendo un progetto finalizzato affinché si possa dare la giusta assistenza ai piccoli bambini. Ovviamente sono stati spese risorse importanti, fondi comunque pubblici, nel quale ora sono tutti lì concretamente, sia ai macchinari che si può vedere la ristrutturazione, perché era inesistente, era un'area della pediatria che c'erano degli studi, quindi è stato creato ad hoc e ovviamente queste risorse ora devono cominciare a essere operative.